Ragazzi, buona giornata a tutti, ben ritrovati in questo mio nuovo video, dopo tra l'altro la trattativa che ha portato Saul al Chelsea per soli 5 milioni più 35 per diritto con i diritti di riscatto, ok, dall'Atletico Madrid, c'è qualcuno che mi ha detto Saul, ma io l'ho visto, Saul non è, insomma, da un anno questa partner che abbia fatto chissà che cosa, ma secondo me solo, cioè, aveva bisogno solo di cambiare aria, punto, fine. Quindi io credo che Saul le sue doti tecnico-tattiche e quant'altro non siano in discussione, non è un grandissimo campione, non è un campione, non c'è una pista che ti fa il salto di qualità, cioè, no, il salto di qualità forse sì, ma non ti fa la differenza solo, ok, non è magari un po' qua di turno, non è un cross, non è un goresca, molto probabilmente. È un giocatore che comunque ti può dare una grande mano, soprattutto in fase di interdizione, ma anche per strappare, ok, e, insomma, prestito con diritto di riscatto, prestito 5 milioni e poi nel caso glielo rispedisci indietro. Sinceramente un tentativo l'avrei fatto per affiancarlo in un eventuale centrocampo 2 a Locatelli, a meno che, appunto, Allegri non abbia in mente, dato che Saul di fatto ha quasi sempre giocato col centrocampo 2, a meno che non abbia in mente di giocare col centrocampo 3 in un futuro prossimo signor Massimiliano Allegri, vabbè. Comunque, adesso andiamo avanti, andiamo avanti. Ieri ho dato i miei voti, il mio voto al mercato a Juventus, lo ripeto, è 2, e oggi ci sono già le prime giustificazioni. Allora, vabbè, la prima giustificazione degli aziendalisti, qual è la pandemia, la pandemia che c'è per tutti. Io ho visto comunque, ad esempio, anche il Milan, ieri ho dato un voto da Simone che non è quello vero, molto probabilmente, perché comunque hanno perso Cerenoglu 0. Diaz ha preso il suo posto, però probabilmente Cerenoglu e Diaz al posto di Salemakers, sicuramente sarebbe stata una tre quarti molto più interessante. E vabbè, quindi hanno perso qualcosina anche loro, però poi hanno sostituito, cioè hanno preso un Bakayoko, che potrebbe essere il vice che sì, sperando appunto per loro che rinnovi il prima possibile, poi hanno preso Giroud, che a me non entusiasma, per niente, a me non è mai piaciuto quell'attaccante lì, un giocatore molto fisico, come dice Ibrahimovic, che secondo me, io l'ho preso al fantacalcio, però secondo me giocherà molto di più Giroud che Ibrahimovic quest'anno, per quanto riguarda soprattutto il campionato, però per il campionato italiano giocatori così fisici, purtroppo, purtroppo vanno di moda e fanno bene, perché il campionato italiano appunto è mediocre e quindi basta essere un po' più fisici rispetto agli altri, la tecnica se ne sbattono un po' tutti, della tecnica, qui si guarda il fisico, se uno è un moltone di due metri riesce a proteggerti palla, è un gran attaccante, se uno invece è un mingarlino, però tecnicamente ti salta tre giocatori, quello è un giocatore scarso da scartare, da mandare all'estero, così purtroppo si ragiona in Italia. Comunque, al di là di questo, questa è la prima giustificazione, il fatto della pandemia, c'è per tutti, ci sono state squadre che si sono indebolite sulla carta, sicuramente l'Inter è una di queste, però si sono mosse con più intelligenza rispetto a noi, siamo stati soggetti e succubi di Ronaldo e Mendes, io la colpa l'ho data a Ronaldo e Mendes principalmente, ma la società ha gestito male le cose precedentemente, quindi il mercato di quest'anno, come dicevo l'anno scorso, comunque è un voto che va ad aggiungersi ai mercati di merda fatti precedentemente, quindi è una conseguenza, no? Però poi c'è gente, a parte la pandemia, che questa è una giustificazione che secondo me affine un po' a se stessa, perché è vero c'è una situazione critica, ma allora Andrea Agnelli dopo Juventus-Lione non mi parla di nomi da Champions, più se non mi parla un'altra volta che bisogna passare da sogno e obiettivo, molto probabilmente sapeva benissimo già in quel momento che sarebbe stato l'ultimo anno di Ronaldo e per questo ha detto questa frase del cazzo, sarebbe stato più logico, probabilmente mandare via Ronaldo l'anno scorso, purtroppo non c'è una società che comunque se lo prendevano probabilmente l'anno scorso, e ripartire con il progetto l'anno scorso, e appunto essere chiari, cioè parlare di ciclo che deve rinasce, dato che sei stato incompetente sotto quell'aspetto, perché ciclo, cioè la rivoluzione ci sarebbe dovuta essere durante il dominio in Italia, quando continuavamo a vincere gli scudetti, invece come dicevo quando si vinceva, stiamo andando avanti per inerzia, vinciamo per inerzia, questa cosa non porterà da nessuna parte, e adesso datemi ragione, perché adesso veramente è ora di finirla, io ho avuto ragione sotto questo aspetto, perché la rivoluzione andava fatta prima, c'erano giocatori che esaltavamo, anzi esaltavate, cioè Pjanic, che dire, ma tu dirlo, l'ho detto ieri, altri giocatori che adesso non sto qua a elencare, lo scambio Danilo Cansello tutti a favore di Danilo, e quando sappiamo benissimo che tecnicamente Cansello è di un altro pianeta rispetto a Danilo, Spinazzola, Pellegrini ci abbiamo perso, e l'ho detto, al di là del problema fisico, ma anche Pellegrini ce li ha, insomma, e a parità di infortuni, mi tengo Spinazzola come riserva di Alessandro e non Pellegrini, e tante altre cose. Quindi, cioè, la situazione di adesso l'ho prevista tre anni fa, più o meno, forse, anzi, penso anche quattro, al primo anno, scusate, al quarto anno di Allegri, se non sbaglio, ho iniziato a parlare di questa cosa qui, e di fatto, e di fatto siamo arrivati a questo punto qui. Cioè, avevo iniziato a parlare e a dire, ragazzi, qua la situazione, tutti sono contenti perché si vince, ma stiamo vincendo semplicemente per inerzia, se non si cambia un qualcosa adesso, se non si rivoluziona adesso, avevi mandato via Bonucci, avevi mandato via Buffon, te li sei ripresi, bastava mandare via Chiellini, invece te li sei ripresi pure loro, e lì andava fatta la rivoluzione, e lì, nel caso, avresti dovuto puntare su un Romero, che a me non piace, non fa entusiasmare, però, comunque, cerchi, il difensore, bene o male, per un po' lo tiri fuori, e avresti dovuto rinforzare, probabilmente, più che De Litt, e ripeto, prossimo in poi siamo tutti bravi, più che De Litt, in quell'estate lì, andava preso un centrocampista forte. Dato che abbiamo rinforzato in questi anni, difesa, attacco, ma il reparto, che è il più importante, per una squadra di calcio, dal 2015 in poi, si è sfasciato, e non l'abbiamo più rinforzato, perché, che dire, Piano e Cematodino sono rinforzi. Detto questo, andiamo avanti, e questo è il discorso, appunto, della pandemia. Giustificazione, pandemia. Pandemia, beh, è un problema, giustifichiamo, perché prima della pandemia, invece, c'erano altre giustificazioni, adesso, prima c'erano, discorso la Premier, che ha più soldi, questo, l'altro, quell'altro, poco se ne fregano se il Liverpool fatturava meno di noi, prima della prima finale di Champions League contro la Madrid, ma, vabbè, questo è un altro discorso, perché poi, i diritti televisivi e tutti i soldi che prendevano, erano dentro quel fatturato, e noi fatturavamo tipo 400 milioni, e il Liverpool 370, prima della prima finale di Champions. Poi, è iniziato il boom, la vinta in Maglietti nel 2019 è stata maggiore rispetto a noi che avevamo Ronaldo, loro hanno venduto di più, non solo perché, ovviamente, sarà sicuramente porto a un riscontro, ma non come Ronaldo, e soprattutto perché hanno vinto la Champions. quindi questo va detto, questo va detto. Però, al di là di questo, al di là di questo, questa è una giustificazione che regge fino a un certo punto, e secondo me non regge più, perché il Presidente sarebbe dovuto essere chiaro dall'inizio, invece che illudere, continuare a illudere, e più che altro non illudere, parlare di Champions, quando noi speriamo si parli di Champions, ma speriamo si facciano anche i fatti, inerenti alla Champions League, e purtroppo sta cosa non è avvenuta, non è avvenuta. Quindi, poi parleremo, alle 15 anche, sotto questo aspetto, di Ronaldo, Cristiano Ronaldo è stata un'occasione persa, probabilmente per loro non è stata mai un'occasione sportiva, forse neanche per Ronaldo, però per noi tifosi, e per me, sinceramente, avere Ronaldo in squadra è sicuramente stato bello, quando è arrivato sono stato contentissimo, però di fatto è un'occasione persa, perché potevi veramente puntare al Champions League, se tu avessi costruito una squadra, prima che arrivasse Ronaldo, perché dopo sarebbe stato impossibile, prima che arrivasse Ronaldo, una squadra degna, con un centrocampo degno, Ronaldo sarebbe stato appunto la ciliegina sulla torta, e avresti veramente puntato, potuto puntare, alla Champions League, e questo non è avvenuto, perché probabilmente hai fatto, il Napoli d'Europa, prendendo il giocatore importante, il giocatore forte, e bloccando anche la rivoluzione, con l'acquisto di Ronaldo, perché avresti dovuto pensarci prima, dell'arrivo di Ronaldo, cioè sarebbe dovuto essere la fine del ciclo di nove anni, dopo un continuo successo in Italia, una squadra comunque completa, forte in tutte le parti, arriva Ronaldo per puntare, l'ultimo anno, gli ultimi due anni, gli ultimi tre anni, alla Champions League, questa cosa non è avvenuta, quindi è un'occasione sprecata, ed è un fallimento, purtroppo è stato un fallimento, solo a livello sportivo, ma anche a livello economico, perché noi ci abbiamo guadagnato, solo il primo anno, di fatto dal merchandising, dai Instagram, dai social, del cazzo, che poi qua c'era la gente che si esaltava, di fatto, di fatto, sia sportivo sia economico, è stato un fallimento, poco a fare, ti ha bloccato il mercato, e non hai passato neanche i quarti di finale, al massimo i quarti di finale, ti sei fermato i quarti di finale contro l'Ajax, fine, e due anni di fila, si è uscito gli ottavi con Ronaldo, è stato un fallimento europeo, Cristiano Ronaldo è stato un fallimento europeo, è vero o non è vero, che con i guaine di bala, sapete benissimo che di bala a me non piace, però è andato di fatto, hai fatto meglio a livello europeo, con i guaine di bala, è vero o non è vero, è verissimo, ok, punto, fine, andiamo avanti, quindi il discorso della pandemia, ripeto, è una giustificazione che non regge più, perché le altre hanno avuto anche loro, lo stesso problema, però si sono mosse con più intelligenza, l'Inter ad esempio, che ha giocato le soggetti infortuni, e bisogna vedere quanto reggerà Zecco, l'abbiamo visto l'anno scorso, per questo io non lo volevo, e di fatto su Morata ho avuto ragione, anche su tutto quell'aspetto, tra Morata e Zecco, è la mia scelta, è sempre stata la mia scelta tra Morata e Zecco, perché tra Morata e Suarez, sapete benissimo che avrei scelto Suarez, e questo, però tra Morata e Zecco, tutta la vita è Morata, ho sempre detto, vabbè, comunque, al di là di questo, al di là di questo, Correa è soggetto infortuni, Sanchez è soggetto infortuni, Sensi è soggetto infortuni, cioè ne hanno tanti anche loro soggetti infortuni, bisogna vedere, se poi beccheranno l'anno di integrità fisica, e tutte queste cose qua, staremo a vedere, sicuramente loro hanno una rosa molto più valida della nostra, però, sia tra titolari, sia riserve, cioè riserve non è che abbiano, come noi, come avevamo noi giocatori, tipo Pereira, noi avevamo una panchina nel 15-16, e 14-15, veramente, d'alto livello, italiano, perché poi in Europa abbiamo visto, sopravvalutavamo i nostri giocatori, poi in Europa prendevamo le sberle, perché qua, l'ho detto ieri, basta essere appena di sopra la mediocrità, per vincere lo scudetto, ma questo appena di sopra la mediocrità, in Europa, ti fa prendere sberle, vabbè, questo per quanto riguarda appunto la pandemia, stronzata, stronzata, poi andiamo a vedere, un'altra giustificazione, abbiamo ringiovanito la squadra, abbiamo votato le basi, per una futura Juventus, non è il presente, e penso che dobbiamo, ho letto anche un, qualche commento su Twitter, penso che glielo dobbiamo, la società dopo 9 Scudetti di fila, ah sì, lo scudetti con The Champions, ditemi, su, su, il Chelsea, che io ritengo appunto, catenaziale o quant'altro, con The Champions ha vinto in 8 anni il Chelsea, ah, perché ha beccato le finali giuste, eh sì, e noi quando, non c'erano le squadre, imbattibili, che fine abbiamo fatto, durante le Champions, perché, perché non siamo stati luogimilanti lì, dai ditemi, adesso andiamo ad analizzare ragazzi, metto gli ucchiali se non è un cazzo, andiamo ad analizzare, allora, qua abbiamo le due liste, abbiamo le due liste, abbiamo la lista Champions League, abbiamo la lista Serie A, guardiamo la lista Champions League, è quella che ci interessa di più, allora abbiamo Cezni, Pinzoglio, Perin, e allora, poi abbiamo in porta, abbiamo De Sciglio, in difesa, De Sciglio, Chiellini, De Litte, Danilo, Alessandro, Bonucci e Rugani, il più giovane, ok, o quello considerato veramente giovane, è il signor Mattheis De Litte, che è del 99, quindi va per i 22 anni, ha fatto 22 anni, credo, più o meno, però sappiamo benissimo che De Litte è scuola Raiola, quindi non sappiamo se, alla fine, quanto rimarrà, perché sappiamo che con Raiola, è un terno all'otto, e di fatto non diciamo le sue puttanelle, purtroppo sotto questo aspetto, è un dato di fatto, però la difesa, l'unico giovane, perché non conto Lugani, l'unico giovane, è Mattheis De Litte, ok, quindi, tra portieri, difensori, l'unico giovane, è Mattheis De Litte, e c'è un grandissimo punto di domanda su De Litte, al centrocampio abbiamo, quadrado, Arthur, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, e Kurusensky, allora, quadrado, va bene, lasciamo stare, Arthur, è del 96, è del 96, e diciamo, non è neanche più giovanissimo, no? Però, comunque, si può considerare, nel bel pieno, della maturità calcistica, ma bisogna dire un'altra cosa, Arthur non ha dimostrato ancora nulla, né per il presente, né in prospettiva, non ti lascia avere, chissà quale speranza, Bene, McKennie, del 98, McKennie sicuramente, un qualcosina in più, in un centrocampo a tre, potrebbe fare, quindi, per me, l'unica, diciamo, una delle poche, diciamo, prospettive, per il futuro, potrebbe essere, Ernesto McKennie, che molti gioventini, però, lo vogliono, lo vorrebbero, fuori dalle palle, è l'unico centrocampista, che segna, vabbè, abbiamo Bernardeschi, servono parole, no, a parte che è del 94, ma, a dire questo, 27, quanti anni ha? 28 anni, giù per di lì, vabbè, non mi interessa, Chiesa, del 97, ecco, Chiesa, è l'unico, che, secondo me, è del, appunto, 97, quindi, dovrebbe avere, quanti, boh, 23, 24 anni, ma, 7 anni meno, di me, quindi, sì, più o meno, giù per di lì, vabbè, comunque, 24 anni, 24, 23, 24 anni, giù per di lì, quindi, Chiesa, è l'unico, insieme a McKennie, che, secondo me, in futuro, può dare, un qualcosina, anche perché gioca titolare, McKennie, in un centrocampo 3, all'eventus, giocherebbe titolare, secondo me, e per me, entrambi hanno fatto vedere un qualcosina, Chiesa, sapete benissimo, come la penso, deve dare continuità, perché non ha dimostrato ancora nulla, ha fatto un'ottima stagione, ma bisogna dimostrare, con continuità negli anni, di essere un gran giocatore, quindi, non ha dimostrato ancora nulla, però, in prospettiva, sicuramente, ha fatto vedere un qualcosina di interessato, rispetto ai propri colleghi, e ai propri compagni di squadra. Rabbio, del 95, lasciamo stare, è un giocatore che, si titolare nella Francia, ma con certi giocatori come Cantepo, anche io sarei titolare, qualora fossi titolare, farei bene, però, direi questo, è un giocatore che è stato scartato, il Paris Saint Germain, è un giocatore molto discontinuo, e vabbè. Locatelli, in 98, è anche qua un punto di domanda, ha fatto bene, bene, metà anno a Sassuolo, praticamente, poco più di metà anno, ha fatto bene, una o due partite all'europeo, e qua si parla già, di un gran giocatore. Insomma, quando ha 18 anni, è stato scartato al Milan. Poi, ripeto, ogni giocatore, magari, ha un periodo di maturità diverso, quindi Locatelli, magari, è maturato dopo Sassuolo. Bisogna vederlo, alla Juventus, quanta personalità avrà. Ok? Ma è un punto di domanda, è un gran punto di domanda. Ok? Perché non tutti i giovani, perché semplicemente sono giovani, in prospettiva possono rendere, o renderanno di sicuro. Perché ci sono giocatori, da altre parti, tipo Mount, tipo Foden, tipo Pedri, che a 18 anni, 20 anni, hanno già dimostrato, quattro volte di più, rispetto ai giovani, che abbiamo noi. E ti fanno essere molto più fiducioso. Anche il Barcellona, che è un Barcellona, che ha fatto peggio di noi, sotto l'aspetto del mercato, ma sicuramente ha una squadra più forte della nostra. Comunque, comunque. Vabbè. Perché comunque ha delle canterie, ha una cantera veramente importante. Bentancur 97, purtroppo non lascia presagire nulla di buono, sto giocatore qua. Completamente e continuamente incompleto. Kuluzeski è un'altra grandissima incognita, non si sa dove gioca, dove può giocare. Io ho detto sempre mezzala. Però è un giocatore che comunque è del 2000, ha 21 anni, e un qualcosina secondo me l'avrebbe dovuto già dimostrare. Cioè a livello proprio di continuità, a livello di titolarità della squadra. Invece, compirlo e con Allegri, per il momento non è titolare. Per il momento, poi vedremo. Però per il momento non è titolare. Ok? Ha fatto sei mesi buoni al Parma, sei mesi buoni, è stato scartato dalla primavera Atalanta, ma ha fatto sei mesi buoni al Parma. Sei, non un anno, neanche un anno, sei mesi buoni, i primi sei mesi. Gli ultimi sei mesi, lasciamo stare. Però per il resto, Kuluzeski, a me, essenzialmente, non dà questa sensazione di essere un potenziale, possibile top player. Ad esempio, il giocatore che mi dà questa sensazione qua, ma aveva problemi fisici, quando è arrivato al momento, c'era Coman. E Coman, con tutti i problemi fisici, al Bayern Monaco, anche al Bayern Monaco, però ha dimostrato di avere delle qualità. non si è confermato un campione, come Dagascosta, ad esempio, Dagascosta per me si è avuto uno dei migliori al mondo, non avesse avuto problemi fisici. E quando era in forma, Costa era di un altro livello, rispetto ai Kuluzeski, allo stesso Chiesa, cioè, Costa era veramente, spaccava, cioè, distruggeva. Contro il Lokomotiv Mosca, lì ha deciso di fare con lui, e basta, ha detto, decido io la partita, 1-2 con Iguain, e è andato dentro. Quelli sono i giocatori che a me piacciono, qualità pura, Coman, a me piaceva, per questo, 20 anni, giovane, talentuoso, e vabbè, per questo, non è che per tutti i giovani sono titubante, quel tipo di giocatori lì, per me, hanno più potenziale, no? Cioè, ti fanno già vedere un qualcosa a 20 anni, personalità, tecnica, Kuluzeski, secondo me, deve ancora dimostrare tanto, e la tecnica, secondo me, a 20 anni, ce l'hai? Cioè, sei formato, tecnicamente. Ok? Quindi, questo è un altro discorso, e Kuluzeski, per me, non diventerà mai un top player, potrà essere un'ottima riserva, della Juventus, o da altre parti, vabbè. E poi andiamo in attacco, Dybala, Morata e Kane. Dybala, non è anche più giovanissimo, quest'anno deve essere il suo anno di salto di qualità, se no, il prossimo anno se ne va, o a paramento zero, o se rinnova, verrà ceduto, spero, Morata, ormai comunque va per i 30 anni, quindi non è anche più giovane, Kane, e poi non verrà riscattato il prossimo anno, Kane è un giocatore del 2002, ma che ha dimostrato veramente poco. Cioè, per carità, ha 19 anni, e quindi ha ancora una carriera davanti, e può ancora fare molto, però di fatto, all'Everton, al Paris Saint-Germain, hanno fatto, sì, gol, parecchi gol, ma lì, equivale al campionato, a parte il Paris Saint-Germain, il resto equivale al campionato di Serie B, quindi sinceramente, anzi, Serie B forse meno di più, quindi è molto più difficile fare gol, però a dire questo, cioè, non è che abbia fatto chissà che cosa, Kane, secondo voi diventerà un top player? Per me, no, potrà essere sempre, sempre come Krusevski, un ottimo gregario, un ottimo ricambio, per fare il fiatale all'attaccante, titolare, per fare, ma penso che lui, ripeto, lui ha più le qualità per fare l'esterno, l'attacco, e di esterni ne abbiamo tanti, il problema principale è sempre, quello non è morata, il problema principale è che è solo morata, quello è il problema principale, perché alla fine, l'unico attaccante vero è morata, non è un 9 puro, cioè non è un goleador, come lo vorrebbero tanti, ma comunque è un attaccante, e l'unico attaccante puro è Alvano Morata, e siamo come l'anno scorso, di fatto. Però, al diare questo, i giovani, di fatto, non è che sono chissà che cosa, perché poi alla fine, ripeto, in difesa, sei con l'acqua alla gola, prossimo anno, è morata, non verrà riscattato di ballo, non sai che fine fa, Kane, non puoi puntare su Kane, per la titolarità, quindi dovrai rinforzare l'attacco, ok, e spendere tanto per l'attacco, e il centrocampo, non è un top player a centrocampo, non è un top player, è tutti i giocatori che possono fare bene, ottimi gregari, possono essere, e giocatori mediocri, ok, Locatelli potrà essere un ottimo giocatore, ma nulla di più, secondo me, non sarà un campionissimo, no, un gran giocatore, ok, e in difesa ragazzi, in difesa siamo nella merda, cioè in difesa, a parte Delete, gli altri, che poi non si sa che fine farà Delete, perché prossimo anno ci sarà anche la clausola, però al diare questo, gli altri sono tutti comunque sopra i 30 anni, a parte i Lugani, che va bene, lasciamo stare, però gli altri sono tutti sopra i 30 anni ragazzi, c'è poco a fare, questa rivoluzione per il futuro, cioè non sono state messe le basi per il futuro, perché comunque secondo me un top player andava messo, non per forza 23enne, ma anche 27enne, 28enne, un top player, centrocampo andava messo, perché dovevi ripartire da qualcosa, tu non sei ripartito da nulla, quando mi dicono abbiamo messo le basi per il futuro, ma dove? Dove cazzo le hai messe queste basi? Vabbè, quindi questo discorso ragazzi, le giustificazioni degli aziendalisti non reggono, non reggono, le ho smontate, quindi questo è il dato di fatto, e sono il primo a dire che, il fatto di Ronaldo, si sentirà il prossimo anno, sicuramente si farà più mercato il prossimo anno, ma ci mancherebbe anche altro, ma qui non è un discorso di fare più mercato, qui è un discorso che comunque il prossimo anno, per quanto mercato tu faccia, non farei mai un mercato, ripeto, non chiedo una rivoluzione in un anno, ma le basi le chiedevo quest'anno, le basi, almeno le basi le chiedevo, cioè, completare quantomeno il centrocampo titolare, quindi mettere un Locatelli con un Pogbao, vabbè, dico Pogbao, ma dico un giocatore del genere, con quelle caratteristiche, magari che costava anche poco, adesso non vi parlo per forza di Kamavinga, ok, perché comunque l'ho visto poco, non so neanche come gioca, quindi non parlo di Kamavinga, però sicuramente in prospettiva, è che per i costi, è un ottimo affare, per il Ramadri, però lei è questo, un Saul, un Saul secondo me è recuperabile, ma alla grande, adesso non so quanti anni abbia Saul, però sicuramente, per 5 milioni di prestito, puoi riscattarlo o no, il prossimo anno, ad affiancare, ad affiancare a Lucatelli, per me sarebbe stata tanta roba, e lì, un minimo di santo di qualità, al centrocampo l'avresti fatto, risparmiando, magari per il prossimo anno, e avresti potuto, fare un acquisto ulteriore al centrocampo, forte, titolare, magari, e avresti potuto riscattare anche a Saul, a 35 milioni, e poi ti siesti fiondato sull'attaccante, ma in due anni ragazzi, in due anni non hai completato, né il centrocampo né l'attacco, e questa è la cosa grave, ed è per questo che dicevo l'anno scorso, Morata, qualità prezzo va benissimo, ma dovete prendere un centrocampista forte quest'anno, e l'attaccante, forte il prossimo anno, con Morata, riserva, cioè quest'anno, questa cosa non è avvenuta, questa è una cosa grave, al di là della pandemia o meno, questa è una cosa grave, perché in piena pandemia, ripeto, il vostro grandissimo presidente, ha detto, ok, quello che combatte i tifosi, tra l'altro, e ama i clienti, adesso infatti vediamo i clienti, allo stadio, però al di là di questo, il vostro grandissimo presidente, ha detto che dovevamo passare, dal sogno all'obiettivo, Champions League, aveva ripreso il discorsetto di due anni prima, quando l'anno dopo, di fatto aveva parlato, invece che era quasi utopico, il vostro presidente, quindi io sto alle parole del vostro presidente, e siamo passati dalla Champions League, dall'obiettivo Champions dopo Lione, allo sperare di entrare in Champions, questo è quanto, vi ho smontato per bene, credo, ragazzi, io vi auguro, buona giornata a tutti, perché qua la gente, poi, purtroppo sono ossessionati dagli scudetti, ripeto, magari, l'ossessione per lo Juventino fosse la Champions, lo Juventino medio, vuole, ed è ossessionato da uno scudetto, perché gli dà fastidio vedere gli altri festeggiare, sinceramente, ragazzi, vedere gli altri festeggiare, ieri, e ieri, l'anno scorso, con l'Inter, non mi ha veramente, minimamente, toccato, se io penso, qualora dovessi vincere a Champions, questi qui, che fine fanno, perché ormai sono abituati anche loro, degli nostri scudetti, o questa ambizione, io sono ambizioso, probabilmente voi non lo siete, e vi accontentate delle locatelli di turno, di chi in di turno, di questi giocatori qua, io no, io no, mi dispiace, ripeto, non chiedo cross, chiedo giocatori forti, potenzialmente forti, per il futuro, e siccome è da sei anni, che il centrocampo non viene completato, chiedevo di completare, quantomeno il centrocampo, e locatelli, ripeto, non basta, punto, fino a fine Forza di Ventus, fatemi sapere a vostro sotto i commenti, alle 15 di live, mi raccomando, e parleremo anche appunto, dell'occasione persa a Cristiano Ronaldo, ciao a tutti.